tutto pronto iniziano i quarti di finale in serie e tra i ragazzi dei buono cori e ragazzi e ipad fc abbiamo questo vecchia di altissimo profilo che emozioni cilindrata a marino col sinistro traversa subito occasione per i buono cori attenzione marino se lo divora doppia occasione bellissima ti prego mandalo su whatsapp il destro di marino la parata di guaracino ciampaia ruba palla a fredda luca ciampaia a sorpresa contro pronostico il vantaggio dei pad segna sempre luca ciampaia 1 a 0 no no fratelli palla in mezzo ci stavamo proprio chiedendo se fossero fratelli o gemelli assist da calcio d'angolo di antonio marino palla in mezzo per vittorio che segna il pareggio e finisce anche il primo tempo 1 a 1 comincia la ripresa di questo quarto di finale in serie e 1 a 1 tra buono cori e patrick gol di champaia risposto vittorio marino vediamo questa ripresa che emozioni cilindrata buon calcio la traversa di guaracino addirittura stavo alle 2 a giocare con la playstation con fredda accendere il telefono saranno fatte le 3 attenzione marino ruba palla a pareto marino guarracino cosa ha preso io vorrei tutti come ci abbaglia l'altro ma beh i sacchi ciudilo non fermarti antonio marino scambio se ne va marino con la ruletta guarracino palo e poi il tap in antonio marino vantaggio buonocori che gol 2 a 1 attenzione marino su assist anzi è esposto in controviene il palo clavoro su occasione per il 3 a 1 ancora vittorio marino ruba palla vittorio marino alta se la divora ma che spaghima ancora la traversa di vittorio marino sfortunatissimi i buonocori non doveva fartela eh vittorio marino si invola vittorio marino il contropiede si invola vittorio marino e mette probabilmente la parola fine al match 3 a 1 per i buonocori pala messa in mezzo su assist di frenda ancora una volta vittorio marino 4 a 1 buonocori esposito ancora contro guarracino esposito parola fine e finisce qui i buonocori vanno in semifinale eccoci con vittorio marino ci sono in realtà tutti i buonocori freschi di semifinale conquistata vittorio tripletta per te contro un avversario che comunque era ostico ma alla fine non avete avuto così tanti problemi che partite è stata vabbè solo all'inizio abbiamo un po' di difficoltà però voglio migliare un po' la difesa qualcosina però ce la siamo gelata senti in semifinale avete già dato un occhio al tabellone acchiapperemo i peg che sono stati acchiapperemo i peg no non è vero no è la sua assurda vabbè insomma tra le altre squadre rimanenti chi temete ma poi a questo punto gli ellas forse più gli ellas non gioca più gallo come lo sappiamo ma comunque credo che lo vincevano sono i più forti va bene bocca al luco ragazzi saluta il librero che fa la spia di Azzin con un po' torneo con un po'